ciao a tutti buongiorno sono qui per dare una risposta a una domanda che spesso fanno il perché del recreo bar sartoria sartoria perché originariamente esisteva una sartoria proprio in questo sito con sotto il laboratorio dove la sarta creava i suoi lavori ed esponeva in questa parte questo lato del locale noi abbiamo voluto mantenere questo concetto che a noi piace molto perché recreo vuol dire creare oltre a stacco e di conseguenza cercare di associare il food e il fashion che insomma in qualche modo si incontrano diamo la possibilità abbiamo sempre dato in questi anni la possibilità delle stiliste emergenti o delle sarte di poter esporre e utilizzare questo spazio come una sorta di showroom o addirittura un punto vendita in questo periodo in questi ultimi due anni sta esponendo una stilista di dismisura che brand degli abiti che vedete qua dietro di me esclusivamente la donna paola stevanini che appena abbiamo appena fatto una sfilata abbiamo creato una sfilata a metà ottobre dove presentava il suo la sua collezione autunno in inverno e diciamo che questo spazio è proprio dedicato per le persone che vorrebbero esporre in una sorta di temporary shop vi ringrazio a presto